Criminalità organizzata ad Ostia se ne sta uscendo, in che direzione stiamo andando? È cominciato il processo contro il clan Spade e purtroppo né le vittime, né le grandi associazioni di rappresentanza dei commercianti, dei balnerari, si sono costituiti parte civile. Questo è un elemento molto preoccupante, perché ripeto, la mafia è forte non solo perché è un potere criminale, la mafia è forte perché riesce a sedimentare cultura, riesce a sedimentare consenso, riesce a inquinare l'economia, riesce a condizionare la vita politica e amministrativa di un territorio e allora la mafia la si combatte se accanto all'azione repressiva delle forze di polizia e della magistratura c'è anche l'azione di intervento, di valorizzazione del capitase sociale di un territorio. Quindi a Ostia oggi ci sono segnali contrastanti di ripresa, di rinascita ma anche di ripiegamento.